L'edizione 2020 della Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà interamente online a causa della pandemia di Covid-19. La manifestazione vuol mettere in contatto Cittadini e Scienze ed è in programma venerdì 27 novembre ed è visibile sul sito www.bright-night.it ed è sostenuta dalla Regione Toscana nell'ambito di Giovani Sì. La Notte dei Ricercatori è stata presentata dall'assessore regionale all'Università e Ricerca Alessandra Nardini insieme al Rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e da Bernard Dica, consigliere alle politiche giovanili e all'innovazione del Presidente della Toscana Eugenio Gianni. Abbiamo creato queste grandi piazze, grandi occasioni di incontro perché riteniamo fondamentale, oggi a maggior ragione, far comprendere alle cittadine e ai cittadini l'importanza della ricerca perché la ricerca impatta poi sulla vita quotidiana delle persone. Troppo spesso la ricerca viene vista come un qualcosa di elite, invece capire anche quali sono invece poi dopo le conseguenze sulla vita delle persone e anche i miglioramenti che può apportare è un tema fondamentale. Noi vogliamo far comprendere l'impatto importante del lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e siamo orgogliosi di farlo in una Regione come la Toscana che su questo ha sempre investito e ha sempre creduto. Gli altri organizzatori, tra cui le altre università toscane e molti centri di ricerca, sono intervenuti in videoconferenza, un'edizione particolare nella forma ma anche nei temi trattati. Noi abbiamo incentrato questa notte dei ricercatori sui temi della salute, dell'ambiente, oltre che dei diritti della Carta europea perché ricorre il ventesimo anniversario proprio quest'anno, perché noi riteniamo che la ricerca sarà il grimaldello fondamentale per costruire anche il post-Covid. Il progetto della Regione Toscana Giovani Sì sostiene questa iniziativa. La Regione Toscana crede nella ricerca, crede nei giovani della Toscana, crede che noi possiamo essere in qualche modo la leva anche per far conoscere la Toscana nel mondo, non soltanto per le sue bellezze, per il suo passato, ma soprattutto per il presente fatto da ragazze e ragazze, da ricercatori e ricercatrici che qui in Toscana devono trovare quelle opportunità che spesso nel nostro paese non si trovano.